Turam all'Inter, beffato il Milan, è pronto ad accettare. Marcus Turam sarebbe prossimo ad accettare l'offerta dell'Inter, beffato il Milan proprio quando l'affare sembrava fatto. In poche ore il destino di Marcus Turam sarebbe stato stravolto. Decisivo l'inserimento dell'Inter nella trattativa tra lui e il Milan, club che aveva vinto la concorrenza del PSG. Il diavolo avrebbe avuto quasi il sì definitivo dell'attaccante ormai ex Borussia Mönchengladbach, ma l'offerta last minute dei nerazzurri avrebbe cambiato tutto. Secondo quanto riportato in un tweet da Fabrizio Romano, il francese sarebbe a un passo dall'accettare l'Inter. Per il Milan sarebbe una beffa vera e propria. Il club del presidente Joey Cornouet sarebbe stato a un passo dalla chiusura dell'affare di calcio mercato, ed invece rischierebbe di trovarsi ora a mani vuote. Un derby di mercato che riporta alla memoria il caso con Dobbià. Anche in quell'occasione i rossoneri sfiorarono il colpo per poi essere sorpassati dai cugini a pochi metri dal traguardo. La cessione di Sandro Tonali al Newcastle avrebbe permesso al Milan di trovare l'accordo finale con Turam su quei 6 milioni di ingaggio a stagione di cui non era affatto convinto. Secondo quanto raccontato da Grand Hotel Calcio Mercato, il calciatore avrebbe dovuto dare la risposta definitiva entro 24-48 ore ma ormai tutto faceva credere che avesse scelto la pista rosso-nera. Ed invece l'Inter sarebbe tornata alla carica, riprendendo in mano una trattativa abbandonata da mesi e avrebbe quantomeno pareggiato l'offerta del Milan, ponendo il francese di fronte ad una nuova doppia possibilità. Questa volta con la garanzia in entrambi i casi di essere al centro del progetto.